Buongiorno, buon sabato a tutti in questo 4 di giugno, ci siamo con TG Mattina, ci siamo per la nostra rassegna stampa. Partendo dalle testate, dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, dal messaggero in primo piano, la questione bellica, sono passate ormai 100 giorni di guerra in Ucraina, titola il messaggero Putin proposta per il grano. Il creblino apre all'export dai porti sottratti all'Ucraina, non poniamo condizioni, poi rilancia, pronti al dialogo, se ci rispettano, Unione Europea, sanzioni anche alla fidanzata dello Zara. Appena sopra invece la lente della Guardia di Finanza sui profili social per stanare gli invisibili del fisco, certamente anche su chi esibisce sul web un alto tenore di vita. E poi paura, alta velocità, l'ultima carrozza fuori dai binari, a Roma incidenti in un tunnel, vicino termini, nessun ferito, traffico ferroviario in tilt per ore e ore. Da Perugia invece, falsa recensione, albergatore denuncia un cliente, lo vedremo poi nella pagina regionale. Veniamo anche alla nazione, così il super bonus fa fallire le aziende. Il 110% si è trasformato in un boomerang, le imprese non riescono a farsi pagare i crediti, rischiano il fallimento 33 mila artigiani. Ma intanto il governo trema sulla guerra, Salvini attacca Di Maio, Vadoia Mosca, pericolo crisi se si vota sugli aiuti a Kiev, sottolinea Giorgetti. Al centro della fotonotizia, non lasciate fuggire l'assassino, il 29enne Ceceno, condannato per l'omicidio di Niccolo Ciatti. Qui in foto il giovane toscano ucciso nel 2017, c'è stata la condanna per il suo esecutore. E poi per quanto riguarda invece l'Umbria, dalle città Todi sta per morire dissanguata, la salvano i carabinieri, qui vedete nel box a destra. Perugia, ubriaca alla guida, picchia la moglie che vuole scendere e poi, sempre da Perugia, minacciato di morte sui social e il rapper lo denuncia. Poi lo vedremo, e anche sulla Nazione il treno esce dai binari, passeggeri in fuga, paura Roma sulla linea dell'alta. Velocità. Veniamo agli approfondimenti all'interno dei quotidiani. Il recupero del gettito dal messaggero. La lente del fisco su web e social per scovare evasori. Intelligenza artificiale in campo. L'utilizzo di algoritmi per estrarre dati da siti e profili. Le informazioni raccolte sarebbero poi incrociate con quelle di altri archivi digitali. Allo studio del governo una norma analoga, quella già approvata in Francia, anche nella legge delega, spinta all'utilizzo delle tecnologie più moderne nella guerra ai furbi. E poi riduzione del tax gap tra i traguardi del PNRR. L'obiettivo è quello dei 12 miliardi. Entro il 2024 la distanza tra le imposte dovute a quelle incassate deve scendere del 15%. Già in vigore l'estensione della fattura elettronica e le sanzioni sui Bancomat. E poi ancora, sempre dal messaggero, dalle ville e conti correnti. Il tesoro nelle banche dati. Su le nuove regole per la lotta all'evasione si attende l'ok del garante della privacy. Controlli incrociati su immobili, redditi, vetture, imbargazioni e rapporti finanziari, sottolinea proprio il messaggero. Le entrate invieranno una lettera di conformità in cui si chiederà conto delle discrepanze emerse dalle verifiche. Il conflitto, invece, è guerra di logoramento, scrive il messaggero. Mosca pronta a trattare e si lura il super generale. Un team di 007, il macellaio siriano, non guida più le operazioni militari. I russi avanzano in Donbass, ma con costi enormi. Sia il dialogo, sottolinea Medvedev, ancora per quanto riguarda la questione bellica. Russi ammutinati, ucrani scontenti, segni di stanchezza nei due eserciti. In un video, la rivolta dei soldati della Repubblica, Filo Mosca, mandati a combattere senza armi e cibo. L'emergenza alimentare è legata al conflitto. L'Africa chiede il grano, lo zar si ha all'export dai porti sottratti a Kiev. Il senegalese Sal incontra Putin, a Sochi. Il nostro continente rischia la carestia. Il Cremlino, faremo partire il cereale ucraino da Maripol e Berda Jansk. Per quanto riguarda la situazione che ha reflussi anche economici, garantiremo un passaggio pacifico senza condizioni. E se l'Ucraina smina, Odessa non attaccheremo. La cosa più semplice è l'esportazione attraverso la Bielorussia, ma bisogna togliere le sanzioni a Minsk. Questo per un quadro generale. Ancora la migrazione per fame preoccupa anche l'Italia. Flussi aumentati del 30%. Il numero dei nuovi profughi in arrivo rischia di compromettere la capacità di accoglienze. Il Ministro, la Morgese, dichiara che siamo allarmati come tutti i paesi di primo approdo. Dalla Nazione, invece, l'effetto boomerang per quanto concerne il famoso 110%. Blocco crediti, trappola superbonus, allarme CNA, saltano 33.000 aziende. Le banche non prendono più in carico gli sconti fiscali anticipati dalle imprese, non monetizzati 2,6 miliardi. L'indagine espone come il 48,6% delle ditte teme il fallimento, mentre il 68,4% paventa lo stop ai lavori dei cantieri. Con tanto di grafico che testimonia proprio nel dettaglio la situazione legata al superbonus. Se c'è ancora troppa attenzione sulla formalità, andrebbe controllata la sostanza, spiega Fabiola Pietrella, la dottoressa commercialista Costudi a Macerata e Roma. E poi la paura sul Torino-Napoli. Treno ad alta velocità esce dai binari. Passeggeri in fuga dalla galleria. Incidente a Roma sul Frecciarossa 219 viaggiatori. L'ultima carrozza ha sbattuto all'ingresso del tunnel. Circolazione paralizzata, buio e fumo a bordo, ma nessun ferito. Doppia inchiesta di procure ferrovie. Ritardi di 150 minuti per gli altri convogli. Questo con altre situazioni che sono accadute in Italia, perché anche a Ferrara, vedete qui nel box a destra, deraglia un convoglio che trasportava cisterne. E poi il disastro ferroviario, invece, in Baviera, in Germania. Vagoni ribaltati, quattro morti e decine di ferite tra i pendolari. Tantissimi erano, purtroppo, giovani studenti. E sul tema, le parole di De Bartolomeo, dell'ANS FISA, che sarebbe l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali. Investire sulla sicurezza, il rischio zero non esiste. I nostri tecnici al lavoro per capire cos'è successo, dichiara proprio De Bartolomeo. Controlli periodici e a campione, impossibile verificare i binari 1 a 1. Ancora, per quanto riguarda di nuovo le testate, questa volta di carattere regionale, ripartendo dal Corriere dell'Umbria. Il punto sul caro carburanti, benzina di nuovo sopra i 2 euro. La stangata sulle famiglie colpisce anche i gestori dei distributori. La mobilità è in drastico calo anche in Umbria. La fotonotizia riguarda invece che da oggi le cantine aperte resteranno proprio così aperte per tutta l'estate. Una serie di incontri ludici anche tra le vigne, con degustazioni e picnic all'aria aperta, che sono soltanto alcune delle proposte delle cantine Umbre per il periodo estivo. A Perugia, spinto giù dalle scale del Duomo, ferito un 27enne. Nell'episodio avvenuto in piena notte, l'uomo ubriaco avrebbe importunato due ragazze e una di queste lo ha allontanato, facendolo poi cadere. Sempre dall'Umbria, allarme siccità, sorgenti in grave deficit di acqua. A Terni, parcheggia pagamento, scatta una rivoluzione. Da Magione, in moto nei boschi, sono stati multati. A Spoleto arriva la chermesse dei Vaporetti, con ben 44 equipaggi in gara. E poi lo sport nel box a sinistra, partendo dal Perugia, Grifo, Ceca, Stori per il dopo Alvini, la situazione allenatore che tiene banco in Casa Biancorossa. Invece per la Ternana, con la Salernitana, è al lavoro per riscattare Bogdan, il difensore arrivato a Stagioni in corso. E poi scherma Santarelli, titolo tricolore nella spada a squadre. Per il Folignate, che continua a fare incetta di successo a livello internazionale. Veniamo anche alla Nazione. Incidente in casa, salvata dai carabinieri. La donna ha rischiato il dissanguamento, determinante l'intervento dei militari. Senza sarebbe morta, sottolineano i medici. La fotonotizia centrale riguarda invece il rapper Umbro, Simone Bacci, minacciato di morte o denunciato gli haters, dichiara nella sua intervista alla Nazione. Nel box a destra, dalle città, doppio cognome all'anagrafe, però ancora nessuno usa l'opzione per quanto riguarda i nuovi nati dopo che cambiati il regolamento. E ancora, la guerra in Ucraina costa gli Umbri 883 euro a famiglia. Terni, crisi e tasse, imprese estremate, confartigianato contro il comune. Sotto la testata, invece, false fatturazioni per fondi pubblici. Padre e figlia, nei guai, corti dei conti dovranno risarcire 319 mila euro. Da Perugia, ancora Umbriaca alla guida, picchia la moglie che vuole scendere dall'auto. E poi, invece, in basso, Foligno Quintana via alla sfida, ma è polemica, sui Deors, mentre i carburanti, anche la Nazione lo testimonia, i prezzi sempre alle stelle, ecco i distributori che costano di meno nella regione. Veniamo al messaggero. Prezzi dell'estate, previsti aumenti anche fino al 12%. Il Codacons stima una spesa balneare quotidiana di 100 euro. Famiglie Umbre, tra le più penalizzate. Il caso, con le parole proprio di uno dei titolari di uno dei alberghi più noti di Perugia, ma anche di Porto Recanati, ovvero Alberto Guarducci, c'è chi mette un voto basso, anche se non c'è mai stato. Lo denuncio, ha detto, per quanto riguarda i cosiddetti voti che vengono messi dagli utenti e da coloro che usufruiscono proprio delle attività commerciali sul web. Affari mafiosi, ma si confisca. Tutto parte da un commercialista. Perugia, la Guardia di Finanza sequestra patrimonio di 9 milioni. Nei boschi del Trasimeno, motocross fuori legge, 11 denunciati. E poi la fotonotizia che riguarda la bicicletta con la sfida di Perugia. Un percorso intorno alle mura, per la verità. È la bicicletta che sfida Perugia, in questo caso con tanti nuovi appassionati proprio delle due ruote. E poi trasporti congelati, tagli alle corse dei bus, sempre nella regione. Terni, strisce blu, 100 posti pagamento e scatta così la protesta. In basso, invece, il punto sulla Quintana. Il corteo storico sarà un trionfo di musica, sottolinea proprio il messaggero. E poi, invece, sotto la testata, le notizie di carattere sportivo. Perugia, la scelta Castori, pronto anche alla difesa a tre. Colui che sembra essere sempre più designato per rilevare Alvini, destinato alla Cremonese sulla panchina del Perugia. Invece, per la Ternana, Falletti, che è reduce da una operazione al ginocchio, out da diversi mesi, rinuncia alle vacanze per poter tornare a giocare il fantasista uruguagio. Mentre, da Gubbio, gli allevi del Karate Club fanno il pieno di medaglie. Davvero grande fucina di talenti per il Karate Club. Gubbio che continua a mietere successi in Italia con le gare che i suoi atleti, tanti giovani, hanno disputato. Veniamo, dunque, per quanto riguarda sempre l'informazione, in questo caso però l'online, con il nostro tour. Partendo dal nostro sito www.trgmedia.it, Gubbio soccorso dona tre ambulanze per l'Ucraina. I mezzi sono giunti a destinazione, questa è la notizia in primo piano. Poi, scorrendo sulla home tutte le altre notizie per lo sport, il volley, il cifemminile Fossato supera Marciano in gara 2 di finale e festeggia la storica promozione in B nazionale per la squadra allenata dal allenatore Gubbio Pugnitopo. E poi, scorrendo la home con tutte le altre notizie, il nostro archivio video, sempre aggiornato www.trgmedia.it. Umbra 24, invece, auto, quote di società e un villaggio turistico con piscati beni per 9 milioni a un imprenditore. E poi ancora, non c'è sangue, emergenza all'ospedale, ripercussioni in sala operatoria, mette proprio in primo piano Umbra 24. Perugia Today, invece, dossier a penino centrale, poche piogge ad aprile e maggio, la siccità si aggrava in Umbra, scenario di severità idrica alta, si legge proprio su Perugia Today. E poi, anche qui, riciclaggio e tasse non pagate, la finanza sequestra auto, quote societari e villaggio vacanze a un imprenditore. Tuttoggi.info, vasto incendio a Terni, bruciati 20 ettari di bosco a Taizzano, due Canadair si alzano in volo nella zona, incendio anche a Bastia Umbra, fiamme nell'area industriale, pompieri in azione da Perugia e Assisi, e sempre da Todi rischia di morire dissanguati, i carabinieri le salvano la vita. Grazie alle manovre sanitarie compiute dai carabinieri, la donna ha raggiunto, viva la sala operatoria. Notizia diretta, esce di casa, ma era ai domiciliari per stalking, è stato arrestato, il 48enne aveva continuato a perseguire e perseguitare la ex compagna, nonostante la denuncia è successa nella zona di San Giustino. Al Da Vinci, intanto, la consegna dei diplomi agli studenti, prima infanzia, aperte le iscrizioni ai servizi educativi comunali, mentre ricevuti in comune i giovani atleti del basket fratta e i molini popolari riuniti, eletto il nuovo CDA. Veniamo anche a Gualdo News, San Benedetto vince il palo di primavera, tanta gente nei due giorni della festa, mentre no c'era Serenella Capasso, Livia Stazzi, insignite del titolo di Cavaliere della Repubblica. Torniamo ai quotidiani, torniamo al Corriere dell'Umbria, in primo piano il caro carburanti, benzina di nuovo oltre 2 euro. A Giove, dunque nel Ternano, tocca 2.079 in modalità self, dunque senza che nessuno la metta, ma il fai da te, a Ponte San Giovanni 2.014. Il prezzo più conveniente ad Assisi, 1.629, con grande rabbia da parte dei gestori, proprio per gli aumenti, i prezzi ancora in salita, in molti distributori dell'Umbria, il costo della benzina di fatti supera i 2 euro al litro, puntualizza il Corriere. I risultati dello studio sulle performance dei sistemi sanitari, intanto saranno presentati dalla Scuola Superiore di Pisa, e poi proposta per biglietto unico, aereo, treno, bus. L'Airlink al San Francesco, uno dei temi, al centro del tavolo di confronto fra Regione e Bassi Italia, e Ministero delle Infrastrutture. Emergenza, siccità, tutte esorgenti in deficit, criticità maggiori in Valle del Tevere, Bulzino e Valle Umbra, va meglio nella concaternana. I dati ARPA sullo stato delle acque in Umbra evidenziano che la metà delle falde sono sotto la media degli anni precedenti. I dati allarmanti, meno 35, meno 50%, a seconda delle zone, per quanto riguarda le precipitazioni atmosferiche nei primi tre mesi del 2022. Le falde si collocano i livelli al 51%, ben sotto la media degli anni passati, le sorgenti sono al 100% in deficit. Maggio asciutto, pochi precedenti negli ultimi 45 anni, sottolineano gli esperti di Perugia Meteo. Intanto oggi termometro da record, fino a 38 gradi in pianura, giornata da Bollino Rosso in Umbria, in tante aree dell'Umbria. Stress idrico, in pericolo anche Uliveti e Vigneti. Parla Mario Rossi, direttore col Diretti, situazione più grave per Cereali, ma tutti i settori ricoli destano preoccupazione. Questo dunque dai dati dell'osservatorio Ambi. L'Umbria comunque per il razionamento non è a rischio. Cantina aperta intanto per tutta l'estate, sempre dal Corriere. Prendi il via oggi, la nuova iniziativa organizzata dal movimento del vino. Picnic in vigna, degustazioni e visite guidate in tante zone della regione. In tanti turisti danno ossigeno al commercio. Il presidente Federmoda Umbria, Carlo Petrini, i negozi ricominciano a vendere, ma restiamo in sofferenza. Tornano matrimoni e cerimonie per molti operatori. Sarà un toccasana per la ripresa dopo il lungo periodo di restrizioni. Caccia dal 18 settembre, ipotesi pre-aperture per la tortora. Definita la proposta di calendario per evitare la concentrazione delle doppiette su poche specie, interviene anche Federcaccia. L'obiettivo è ridurre i cinghiali. Per quanto riguarda l'allarme legato alla peste su Ina, se ne contano oltre 100.000. Incontri in programma con l'associazione Venatoria a confronto con Palazzo Donini. E poi stanziate anche 1,2 milioni contro la povertà, il bando regionale per progetti di inclusione sociale che arriva dalla regione. Veniamo invece alla Nazione. Correte, sta morendo dissanguata. La salvano in estremi si carabinieri. È successo a Todi. Anziana si ferisce un braccio. Due militari arrivano prima dell'ambulanza e le bloccano l'emorragia. L'intervento dopo l'allarme è scattato in seguito a un incidente domestico. Un'azione tempestiva e quanto mai salvifica per la donna. False fatturazioni per fondi pubblici. Due condanne sempre dalla Nazione. La Corte dei Conti ha stabilito che padre e figlia risarciscano l'Unione Europea e il Ministero della Regione per un totale di 319 mila euro. Il denaro versato all'azienda rumena veniva restituito nei giorni successivi. Villaggio in Sardegna, quote auto, sequestro e danni di un imprenditore, un patrimonio da 9 milioni che la sua capacità reddituale non giustificherebbe. La cena non gli piace ed è bagarre sempre a Perugia. L'uomo 65 anni, ospite di un centro per anziani, prima la lite, poi si allontana. Fontiveggi invece resta al centro dei controlli e l'obiettivo è innalzare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. E poi questo racconto minacciato di morte ho denunciato gli haters. Il racconto appunto del rapper Umbro, Simone Bacci, qui in foto un attacco catuito, violento, inaccettabile, dichiara è stato passato il segno, sono andato dai carabinieri. Sono entrati in una chat e ho scoperto che l'oggetto della discussione ero io dopo vari insulti via social. ubriaco alla guida, picchia la moglie, la donna aveva chiesto di fermare l'auto a causa dell'andatura troppo pericolosa per lei e i suoi bambini. L'Umbria, ancora la situazione legata all'economia, la guerra farà perdere 337 milioni. La stima di CGA Mestre, ogni famiglia nel cuore verde, subirà una diminuzione del proprio potere di acquisto di 883 euro, con tanto di grafico che lo testimonia. Secondo le agenzie regionali il callo del PIL sarà quello, sarà dello 0,7% e non dell'1,8%. Queste le stime di AUR. Mentre materie prime mangime, tutti gli scenari, intanto in arrivo il nuovo digitale, occhio alle tv, importante risintonizzare e cercare le frequenze TRG, lo troverete a breve sul canale 13. Benzina e diesel, ecco dove poter risparmiare. In tre giorni un nuovo aumento di 3 centesimi con la verde che al self è 1,95 euro, ma ci sono distributori dove costa 10 centesimi in meno. Intanto lotta alla povertà, un tavolo regionale per coordinare gli interventi. Veniamo quindi al messaggero, Pullman, tagli congelati, Bassi Italia vuole chiudere l'avvertenza da 10 milioni. Braccio di ferro con la regione e si cerca un'intesa per evitare lo scontro dal giudice. L'azienda annuncia ai sindacati il rinvio martedì il presidio in Piazza Italia. In ballo ci sono 1,5 chilometri di corse con la regione che ha deciso di risparmiare 3,5 milioni di euro per i servizi del trasporto pubblico su gomma. Un taglio di un milione e mezzo di chilometri alle corse dei bus. Martedì come detto presidio dei sindacati davanti al consiglio regionale. e poi per la contrattazione dei presidi Repetto ha trovato una soluzione per quanto concerne il pianeta scuola uso consapevole dello smartphone primi patentini consegnati intanto agli studenti dell'Umbria chiusa così l'avvertenza presidi e tutti più sereni anche gli studenti in vista della maturità. La situazione legata al turismo l'allerta scrive il messaggero voli gelato e ombrellone il caro estate è servito una ricognizione del Codacons spesa balneare di 100 euro al giorno rincaro del 12% famiglie Umbre più penalizzate viste le retribuzioni più basse rileva Carla Falcinelli presidente del Codacons Umbria rincari speculazioni se confermate via con la classe Axion scrive proprio il messaggero ma ancora per quanto riguarda il turismo la beffa da dove arriva dalle parole di Alberto Guarducci per quanto riguarda la propria attività di albergatore sia in Umbria che nelle Marche denunciamo i clienti per recensioni false questo il suo sfogo dopo che alcuni utenti alcuni clienti che hanno soffrito delle sue attività dei suoi esercizi hanno scritto recensioni che non corrisponderebbero alla realtà dei fatti questo dunque per quanto riguarda le notizie in primo piano veniamo quindi a ulteriori approfondimenti di carattere regionale Corriere dell'Umbria spinto dalle scale del Duomo 27 anni in ospedale torna la movida violenta scrive il giornale straniero va contro due ragazze e una per allontanarlo lo fa cadere frattura al volto e trasporto al pronto soccorso i residenti continuano intanto a protestare perché in diversi ragazzi e persone ubriachi urinano in strada con droga assunta a cielo aperto nel centro di Perugia ma si confisca della finanza di villaggio turistico in Sardegna allontanate a fontivegge romene con precedenti per furto scrive ancora il Corriere dell'Umbria e poi ancora per la cronaca in questo caso giudiziaria camionista a giudizio per tentato omicidio citazione diretta per il 29enne albanese che il 22 aprile ha colpito con un cacciavite un collega dopo una lite per lo scarico merci con l'avvocato Ubaldo Minelli che difende proprio la vittima dell'aggressione con il cacciavite Guido Brià che picchia la moglie davanti ai figli piccoli è successo sempre nel Perugino è stato denunciato per lesioni e per cosse non gli piace la cena e scappa dall'ospizio è accaduto a Corciano a un 65enne mentre studentesse del Pieralli ha lezione di difesa personale hanno partecipato alle lezioni del maestro Carlotti esperto di arti marziali responsabile di Libertas Margot la fociazione proprio da sempre vicino all'universo femminile promosso dalla scuola all'iniziativa e coinvolto quattro classi quindi le parole da parte di diverse persone intervistate sulla questione legata ai trasporti pulman poche linee e mezzi mal ridotti questa è la box popoli che arriva da Perugia tempi da rivedere ci vogliono due ore da Perugia a Terni studenti soddisfatti invece dell'abbonamento a 50 euro finora prezzi da salasso hanno detto in tanti qui alcuni volti proprio degli intervistati i sedili traballano fino alla nausa dichiara qualcuno e ancora vengo da San Martino in colle devo dire che due tratte e cinque bus complessivi per l'intero servizio in un giorno sono veramente pochi dichiarano alcuni degli intervistati mobilità ciclabile serve una consulta permanente per il World Bicycle Day FIAB Perugia pedala avanti tutte altre associazioni hanno dato vita a un raduno intanto degrado al Parco Sant'Anna i residenti protestano per lo stato di incuria in cui riversa l'area veniamo anche al messaggero per le bici l'anello delle mura proprio su questo tema che abbiamo visto poco fa festa mondiale della bicicletta la FIAB tra pedalate nuove idee sarebbe un percorso utile anche per attirare i cicloturisti sottolinea Paolo Festi e poi ancora anche il Giordano Bruno adesso la sua panchina rossa mentre per Santa Lucia e Sant'Angelo viaggio nel tempo con due eventi nei quartieri perugini dalla mostra con gli abiti da sposa alle fotografie che raccontano i luoghi e poi la cronaca ancora affari mafiosi confiscati 9 milioni la guardia di finanze spropria resort auto e conti scoperto gruppo perugino abruzzese tutto parte da una commercialista la professionista perugina e un altro Umbra al centro di un vorticoso giro di società usate per il riciclaggio auto lavata a prezzi stracciati sfruttando gli operai è stato arrestato in questo caso di Capolarato che parte dall'Umbra e arriva fino a Gabicce Mare SOS Bullismo e Veggang studente le azioni di legalità sono quelli del Cavour Marconi Pascal di Perugia Valordi e spacciatori Fontivegge al setaccio motocross fuorilegge 11 denunce nella zona di Magione venendo anche alla Nazione si parla della nuova legge sul doppio cognome è partito a rilento le parole da parte dell'assessore di Perugia Cicchi la nagrafe è pronta ma servirebbe una circolare per chiarire alcuni passaggi parla anche l'ex deputata dei civici e presidente di blu Adriana Galgano fine di un retaggio patriarcale ha dichiarato una coppia già 5 anni fa scelse di fare domanda al prefetto ma la burocrazia è piuttosto lenta si legge sulla Nazione saluti istruzione e inclusione un milione per anziani e giovani l'assessore Coletto illustra il piano a cui saranno destinate le risorse stanziate l'obiettivo è quello del benessere collettivo il valore del cliente nell'era 4.0 spiegato alle piccole e medie imprese il folignate Brunori in cima alle classifiche con il suo libro software per vendere con un bademecum del nuovo modo di fare affare qui in foto proprio il folignate Riccardo Brunori esperto in digital business che si è formato negli States i dati sono il nuovo petrolio ha detto l'acquisto oggi passa prima dalla verifica dei commenti e delle recensioni ancora sempre dalla nazione emergenze incendi bruciano ben 20 ettari di bosco due canadieri in azione a Taizano nel Ternano vigili del fuoco all'opera con due squadre sul posto anche il sindaco Francesco De Rebotti zona più legata di fatti a Narni che a Terni in fiammi intanto anche la plastica catastata vastia Umbra roguino una ditta nella zona industriale alte densa colonna di fumo questo dunque per quanto riguarda anche le notizie regionali nella sua complessità e appunto prima di passare ora ai territori però rivediamo questo servizio andato in onda nel Tg di ieri sera che riguarda Città di Castello e riguarda l'inclusione proprio della città per quanto concerne l'attività legata alla ceramica sentiamo Città di Castello inizia il percorso nell'associazione italiana Città della Ceramica con una mostra a fine estate insieme ai maestri artigiani del territorio e il sogno nel cassetto dare vita a un museo che rende omaggio alla sapienza antica di una tradizione artistica tra le più importanti in Umbria in Italia dopo l'approvazione in consiglio comunale dell'adesione alla sodalizio che raccoglie 45 comuni della Pelisola riconosciuti dal Mise per la significativa attività nel settore l'amministrazione comunale ha presentato la prima iniziativa congiunta con gli artisti locali della ceramica la mostra collettiva extraterris in programma dal 22 agosto al 4 settembre a Palazzo del Podestà in Corso Cavour alla quale parteciperanno Luca Baldelli Simona Baldelli Fanet Cardinali Entropia Studio Francesco Fantini Ceramiche Noi e Laboratorio Castello In questo progetto c'è un gruppo di artisti e appunto industrie artigiani che si sono riuniti per dare forma ad un'associazione in futuro e che faranno una mostra a settembre al Palazzo del Podestà durante il Festival delle Nazioni dando luce praticamente a tutte le loro produzioni e realtà per valorizzare appunto la produzione ceramica del territorio Sì avere il supporto di tutti del Comune di Città di Castello anche e soprattutto che vuole valorizzare la produzione ceramica qui a Città di Castello e quindi li ringrazio perché è un'occasione molto importante per i ceramisti Gli amministratori comunali si sono detti pronti a lavorare per l'apertura di un museo dedicato alla ceramica riscontrando l'interesse degli operatori presenti a collaborare nell'ambito della rete che promuoverà le eccellenze artigianali del passato e del presente Ripartiamo dalla zona del lago Trasimeno Magione nei boschi con le moto 1000 euro di multa 11 persone sanzionate da carabinieri forestali per aver percorso sentieri riservati solo a escursionisti i militari li hanno intercettati a letto di San Francesco 8 mezzi senza targa esposta e uno senza revisione venendo invece a Bastia Umbra incendi in un'azienda di prefabbricati le fiamme hanno interessato materiale plastico nel piazzale colonna di fumo visibile anche dal centro di Assisi un altro logo è scoppiato in un'officina meccanica a moto d'epoca completamente distrutta e danni anche alla struttura sempre da Bastia Umbra che esce la rete di consulenti finanziari di poste italiane da Assisi invece padre e figlia a i soliti ignoti il noto game show preserale di Rai 1 tornano a casa a mani vuote il conduttore Amadeus ha colto l'occasione della loro presenza per ricordare la bellezza della città serafica e invitare tutti a visitarla hanno perso 110 mila euro proprio nel gioco finale per quanto riguarda invece Todi i carabinieri salvano la vita un'anziana lo riporta anche il Corriere i parenti della donna vittima di un incidente domestico erano convinti fosse deceduta ma i militari l'hanno subito soccorsa hanno evitato il peggio così in attesa dell'arrivo del 118 con questo pronto intervento lettera di elogio all'arma per quanto fatto nell'emergenza da parte dell'ospedale mentre da Deruta sfilata di moda per ricordare Maria Elia si è tenuta in piazza dei consoli in memoria della studentessa scomparsa emozione con le parole delle insegnanti dedicate appunto alla giovane studentessa Maria Elia scomparsa lo scorso marzo vogliamo insieme Castello delle Forme da Marciano domani alle 10 all'avio superficie la manifestazione dell'associazione nazionale città dell'area lo ricorda sempre il corriere veniamo dunque propria città di Castello ubriaco prende a calci i carabinieri voleva spiegazioni per la denuncia della sera precedente quando l'ex convivente aveva chiesto l'intervento dei militari per un'aggressione l'uomo è stato arrestato e condannato a 4 mesi di reclusione in foto il maggiore Giovanni Palermo che dirige proprio i carabinieri dell'Alto Tevere fascino mediterraneo stasera il boschetto concorso di bellezza cosfilata organizzata da Carla Terranova mentre sempre da città di Castello per la questione legata all'ambiente i studenti scelgono la bici mattinata particolare con 800 allievi del polo tecnico Franchetti Salviani alcuni invece sono andati a piedi con alcune foto che testimoniano l'iniziativa per quanto riguarda proprio gli studenti in questione a Umbertide Scuola di Vittorio dona 1000 euro all'unicef i fondi raccolti con iniziativa adotta una piantina serviranno ad aiutare i profughi dell'Ucraina mentre a città di Castello torna il cibo di strada in piazza del Garigliano con il racket track in appunto piazza Atletica Atletica Umbertide ripulisce zone in pianti sportivi tornando proprio nella città della Rocca domattina alle 9.30 ritrovo in piazza Michelangelo per liberare l'area dai rifiuti abbandonati veniamo a Gubbio concorso Oderisi da Gubbio tutti i nomi dei premiati con cerimonia a Palazzo Pretorio consegnati riconoscimenti allestito una mostra con i valori realizzati dagli alunni delle scuole dell'infanzia e della primaria la giuria ha scelto le opere e stilato la classifica finale con un ricordo speciale dedicato a Samuel Cuffaro che è venuto a mancare nel rogo della Greenfest il 7 maggio del 2021 qui in foto proprio la famiglia Cuffaro festa dei ceripiccoli in archivio con la novità legata a Giulietta Pierini è la seconda ragazzina nella storia della manifestazione la giovanissima trombettista la nota negativa scrive il Corriere la continua intromissione degli adulti sotto le stanghe veniamo quindi a Gualdo Tadino sosta in centro approvato il piano gli spazi pagamento saranno 150 il disco orario di 60 minuti cambiano le regole per ottenere i permessi a pagamento saranno 40 posti al primo piano e 46 al secondo per quanto concerne Piazza Mazzini mentre le attività sono aperte ci si può fermare parlano commercianti e professionisti per quanto concerne sempre la questione legata al centro storico di Gualdo Tadino Gualdo Tadino ancora palio di primavera pubblico da record in piazza anche numerosi turisti per assistere alla sfida fra i giovani portaioli festa grande per ritorno alla normalità dopo lo stop imposto dal covid andiamo a Foligno Quintana nel vivo con le taverne aperte rappresentano l'aspetto goliardico della festa Folignate sono punti di ritrovo per rionali e avventori domani sera una pausa per le prove al campo dei giochi mentre per la viabilità modifica il traffico per la festa di Sant'Isidoro a Foligno a Capodacqua nuovo parcheggio e rifacimento della piazza con i cantieri che dovrebbero terminare per il mese di dicembre sicurezza stanzati oltre 800 mila euro il ministero dell'interno finanzia un sistema di videosorveglianza integrato redatto dal comune che oltre al centro si estende anche alle frazioni di Foligno mentre a Bevagna dal 15 giugno tornano le gaite con le atmosfere medioevali l'apertura preceduta dal convito di stasera la manifestazione andrà avanti fino al 26 durerà un giorno in più rispetto alle altre edizioni a Spoleto altra manifestazione quella dei Vaporetti con 44 equipaggi in gara presentato il programma della corsa che si terrà dal 17 al 19 giugno testimoniano Claudia Tosoni e Giulio Berruti con appunto la corsa Spoletina che è stata presentata il Vaporetto qui in foto realizzato a mano dagli studenti dell'Istituto d'Arte di Spoleto per l'imprenditoria Morto Torquato Novelli Cordoglio da parte dell'amministrazione di Spoleto lavori all'ex caserma Minervio la proroga è di 4 mesi gara podistica per ricordare Alberto e Francesco Ciri i fratelli deceduti per Covid a distanza di 48 ore l'uno dall'altro si terrà proprio nei prossimi giorni a Spoleto ancora sempre in questo caffo da Santa Natola di Narco galleria in ballerina bocciata da comuni e cittadini fibraroli bene le migliorie ma la nostra strada è paesaggistica deve restare a scorrimento lento il sindaco spiega cosa è emerso durante il consiglio aperto convocato sul progetto di Anas per quanto concerne la galleria di Castel San Felice che avrebbe dovuto collegare il borgo con Vallo di Nera ragazzi del cerchio agli Special Olympics di Torino 10 atleti parteciperanno alle competizioni dedicate alle persone affette da disabilità intellettiva e a Vallo di Nera due giorni di appuntamenti dedicati al cacio ai prodotti tipici oggi e domani con la mostra mercato proprio sul tema veniamo a Terni parcheggio pagamento e rivoluzione scrive il Corriere il numero resta di 1600 ma spunteranno nuove strisce blu in alcune vie per recuperare quelle eliminate in altre strade intanto tutte bocciate le richieste per i posti auto al Duomo era stato presentato un atto di indirizzo in commissione di inferenziare le tariffe per fasce orarie e giornate a parlare il presidente di Comcommercio Terni Stefano Lupi e poi da Terni Canadera al lavoro per domare rogo di 20 ettari di bosco come abbiamo già visto in precedenza nella zona di Taizzano il più grande parco della città resterà senza servizi igienici scrive ancora il Corriere mancano personale fondi per risistemare i bagni pubblici nessuna speranza per i frequentatori della passeggiata di Terni che è fuori uso sine die dunque senza una data precisa tributo in musica al generale dalla chiesa nel concerto per il 2 giugno del Bricialdi di Terni San Gemini pronta a ospitare chi lavora in smart working siglato un protocollo con una start up che offre servizi alle aziende per i dipendenti da remoto scelti Ottoborg in Italia per il soggiorno un albergo che insieme alla biblioteca comunale diventerà anche un co-working sala multimediale teatro a disposizione per eventuali riunioni e convention scrive proprio il Corriere in tanti vertici di ACA incontrano i dipendenti del Sì sempre da Terni attraverso sulle strisce perdonali viene travolta da una macchina incidente a Ponte Carrara ricoverata in ospedale una donna mentre Taschetti insegnato dell'onoreficenza di ufficiale al merito della Repubblica il capo di gabinetto della questura tra premiati del prossimo 2 giugno veniamo ancora alla zona sempre di Narni in questo caso navetta per le gole del Nera partenza sprint con il bel tempo centinaia di turisti e visitatori per la giornata inaugurale del servizio oggi e domani si replica ancora da Narni giro di vite dei carabinieri contro i furbetti dei rifiuti sanzioni per 3.000 euro venendo invece ad Orvieto il ritorno di Orvieto in fiore rievocazioni e la palombella grande attesa anche per il palio dei balestrieri con 16 tiratori che imbracceranno la balestra manesca usata nel medioevo nel weekend la manifestazione del comitato dei quartieri con gli eventi tradizionali qui alcuni dei protagonisti proprio della Kermess intanto domani mattina in Duomo la veglia di Pentecosta mezzogiorno in punto la discesa della colomba bianca che simboleggia lo spirito santo ricorda proprio il corriere veniamo anche al messaggero da Todi stava per morire salvata dai carabinieri la risposta alla chiamata del 112 polemanova di primo soccorso l'intervento la donna operata Perugia è ora fuori pericolo Bastia infiamme materiali di plastica di scarto Città di Castello Stolker non rispetti di vieti l'uomo viene arrestato per la seconda volta da Umberti d'arriva l'ordinanza stop agli sprechi di acqua Corciano e Magione via libera ai bilanci conti in ordine niente anticipazioni di cassa San Giustino aggredisce la ex e poi anche i carabinieri condannato per direttissima Bastia rievocata convenzione battaglia legale per un circolo chiuso scrive proprio anche il messaggero a Foligno sarà un corteo storico musicale ecco l'ultima novità della sfilata raccontare lo splendore estetico della Foligno barocca i rioni potranno utilizzare anche trombone violino cornamusa e arpa dell'epoca a Bevagna tuffo nel Medioevo torna il mercato delle gaete tra cultura tradizione e mestieri mentre a Viaria vietato cibare uccelli selvatici il disegno il divieto arriva proprio nei pressi del fiume Topino nel Folignate Vaporetti 53 equipaggio al via scrive il messaggero presentata la 56esima edizione della corsa più pazza dell'anno dal 17 al 19 giugno tante iniziative anticiperanno la gara presentazione in piazza Duomo quindi per quanto riguarda un'anticipazione di sport Spoleto nuote sordetti a segno oggi esordio azzurro per Mancini Lucrezia Mancini che a Limassol Cipro farà il suo esordio in azzurro a soli 13 anni questo dunque da Spoleto da Terni in strisce blu in centro ne spuntano 100 da Via Giotta a Via Filzi la mappa dei nuovi posti a pagamento che riequilibrano quelli spariti per sempre Taric e Tosap impresa allo stremo con fartigianati il comune non solo aumenta le tasse ma taglia fuori dagli appalti le ditte locali sottolineano gli artigiani Sanitre e sicurezze i protagonisti della lotta al covid il vicequestore Taschetti e il colonnello Davide Milano insegniti dal prefetto Bruno Terni Rieti è stata addio stop ponti e ai bus turistici Ubertini e Mazzelvetta chiudono i mezzi pesanti per decisione di Anas si allunga di 10 km il percorso per raggiungere i siti di Piediluco e Cascata rifiuti abbandonati intanto scattano le multe mentre da Orvieto altra stangata su rifiuti il comune non ha mosso un dito questo il giacquise in foto il sindaco di Orvieto Roberta Tardani la stangata su rifiuti ha acceso la polemica per il ruolo proprio del comune della città della Rupe intanto Novamont scatta la cassa integrazione per 85 lavoratori il caro energia e l'aumento delle materie prima hanno obbligato l'azienda a ridurre la produzione il ponte fa felice solo il Piediluco e Valnerina affluenza soddisfacente ma questa volta a mancare sono stati gli stranieri per quanto riguarda il turismo torno il Mordi e Fuggi molti turisti con il Gran Caldo hanno preferito il mare Orvieto torno il volo della Palombella torno dei Balestrieri e di nuovo sfida e poi Amelia prima tappa del Festival dell'Umbria Antica l'antichista Giulio Guido Rizzi aprirà i lavori con un racconto su Roma Antica al Museo Rosa il Festival dell'Umbria Antica che farà tappa poi anche a Gubbio veniamo anche dunque ai territori sulla nazione rifiuti in fiamme a Borgo Giglione attesa per i risultati dei rilevi ARPA le immagini delle telecamere di videosorveglianza non avrebbero rilevato alcun movimento sospetto mentre da Assisi scuole 16 milioni per la sicurezza summit con i sindaci per gli interventi su edifici scolari fantastici di competenza della provincia di Perugia nel territorio di Assisi Bastia le operazioni sono previste per alberghiero Properzio e Bonghi mentre da Gubbio l'omaggio dei ceri per Samuel Cuffaro un premio speciale nel concorso degli studenti dedicato al giovane deceduto nel rogo di Canne Greca qui proprio la famiglia di Samuel Cuffaro durante la difficile scelta dell'elaborato da premiare oggi all'ora 16.30 la premiazione del concorso grafico pittorico o delisi da Gubbio con tutti i nomi sulla nazione intanto l'atleta interiore alla Speregliani il libro di Franco Rossi insieme al mental coach di Gianmarco Tamberi alla biblioteca Gubbina a Gualdo riapre la pista ciclabile con più sicurezza mercoledì tagli del nastro rimossi cordoli di recinzione nuova illuminazione a led lavori per 300.000 euro nocera Umbri il discobolo d'oro a Mister Mingarelli riconoscimento alla memoria del docente di educazione fisica amato dai suoi alunni che purtroppo è venuto a mancare qualche mese fa lo ha voluto il CSI di Foligno aggredisce l'ex compagna poi assalta la caserma San Giustino denunciato e arrestato un uomo di 38 anni mentre per la festa del 2 giugno i vigili del fuoco vestono la torre civica con il tricolore a mountain bike protagonista con oltre 80 atleti successo per la walkie race con partecipanti arrivati anche da fuori regione sempre nell'Alto Tevere il mercato rimane nel centro storico ancora la città di Castello definitiva la scelta del comune dopo le ultime polemiche ci saranno spazi più ampi una migliore offerta e anche maggior sicurezza entro giugno rinnovate agli ambulanti le concessioni per altri 12 anni a Umberti è evitato irrigare i giardini privati lavare l'auto la siccità fa scattare l'allarme sulle risorse e il ricarriva l'ordinanza subito emessa dal comune con controlli affidati alla municipale possibile multe sino a 500 euro via Ideors c'è il corteo ordinanza tra le polemiche il consigliere Lini provvedimento che non tutela le attività non possiamo costringere gli imprenditori a rimuovere ciò che è autorizzato dichiara mentre nella frazione di Pali il rinnovo della convenzione con gli obiettivi gestire e promuovere con comune comunanza e proloco al lavoro acqua non potabile in via Tignosi divieto all'uso disposto dal sindaco dopo una nota dell'aslo 2 indagini della bus torna la corsa dei vaporetti 53 gli equipaggi iscritti appuntamento dal 17 al 19 di giugno a Spoleto oggi la diò l'imprenditore Torquato Novelli con il ricordo del sindaco Sisti con lui se ne va un pezzo di storia della città mentre da terni crisi e tasse comunali imprese allo stremo dur attacco di confartigianato a Palazzo Spada l'amministrazione sembra non accorgersi della grave situazione dell'economia locale qui in foto Mauro Franceschini presidente proprio di confartigianato imprese occupazione di suolo pubblico tariffa rifiuti appalti e notte bianca nel mirino nuovi posti blu un'altra gabella basta fare cassa sui cittadini la rabbia di com commercio su parcheggi a pagamento a Terni a Orvieti invece parco eolico nella zona dell'Alfina il progetto prevede sette pale alte 200 metri valutazione di impatto ambientale al vaglio proprio del ministero ambientalista in trincea difesa di panorama e patrimonio culturale da Narni Maurizio Bufi guarda lontano l'area vasta è una risorsa dedicata al sindaco il candidato sindaco di Narni sostenuto da azione la ricetta anche di Cecilia Cari efficienza e attrattività propone la candidata sindaco di Narni sostenuta da quattro liste invece di centro destra veniamo dunque per chiudere questa prima parte di rassegna anche al tempo libero cultura spettacoli e società dalla nazione L'Eugubino Mengoni in A Beautiful Place l'artista di fama internazionale è stato coinvolto dal gruppo Pirelli in una grande operazione di carattere culturale lo riporta la nazione nell'articolo firmato da Gian Piero Bedini proprio nella pagina del Tempo Libero che racconta anche tutta la storia di Giovanni Mengoni a Castione del Lago intanto ultime due giornate per Enquentro letteratura e non solo Cristina Zavalloni e Manuel Magrini aprono intanto il festival Ciù per Ciù agli stabili di Assisi mentre da Perugia stasera e domani al Tf rinoceronti il grande ritorno del Tatro di Sacco il surreale per raccontare un'epoca di cambiamenti aderuta la pittura del sentimento dell'Essa Biscarino e l'antica Fornace Grazia a Bastia Umbra a Cuna Matate il musical della Fly in scena alle spere domani alle ore 17 e poi The Toddy Circle la fotografia fa spettacolo decima edizione da oggi al 10 giugno in arrivo nella città Tuderte le meraviglie della natura ai giovani talenti da ascoltare oggi e domani appuntamenti per passare un fine settimana di divertimento alla città della domenica ma anche di scoperta dei musicisti top del futuro scrive il messaggero arte, arte, design e innovazione ecco spazio check in centro proprio a Perugia Benevenios a Ciardana angolo di Sardegna sempre nella città perugina e poi anche un matrimonio che è stato celebrato sulla banchina della stazione di Fontivegge Francesca Andrea prossima stazione amore scrive proprio il messaggero e da Santa Maria alla Rocca Nordic Walking in 220 in arrivo ad Assisi venendo anche all'album del Corriere sulle orme dei Pulfna tra chiusi e città della Pieve due giorni dedicati agli etruschi e a loro tesori conferenze e visite guidate per conoscere il patrimonio dei due territori per l'occasione ci sarà l'apertura straordinaria della tomba del Granduca sempre dall'album del Corriere a Enquentro gli ospiti si sfideranno anche a Biliardino terza giornata del Festival della letteratura ispano-americana a Castiglione del Lago a Perugia concorso Unimusic le band in finale all'Umbria che spacca una giuria tecnica decreterà dopo le esibizioni i vincitori del concorso Adisu 5 serate al 110 hanno accolto circa 600 spettatori chi vince avrà la possibilità poi di esibirsi al noto festival estivo Umbro filosoficamente per 350 studenti a Via del Colle del Cardinale di Perugia si è concluso il festival promosso da amica Sofia questo dunque per quanto concerne anche gli eventi gli spettacoli e la pagina culturale dai quotidiani ci fermiamo con la pubblicità poi torniamo con la seconda parte come sempre legata allo sport restate con noi grazie a tutti grazie a tutti